Eccoci qua signori Big Luca e in questo video vi volevo dare un attimo qualche dato, volevo fare un sommario di quello che è stato ad oggi il lancio più profittevole d'Europa che ha scardinato il mio precedente record di leggermente sotto gli 800 mila euro in due settimane e volevo farvi vedere il risultato di quest'ultimo lancio e parlarvi un attimo e darvi qualche dato perché c'è molta curiosità nell'industria e quindi volevo un attimo parlarvene allora c'è qualche disclaimer da fare prima di iniziare allora innanzitutto noi siamo un'azienda di formazione seria quindi non vendiamo videocorsi che contengono trucchi metodi di guadagno facili, automatici, possibilità di investimenti sicuri non ci occupiamo assolutamente di queste cazzate ce ne sono altri che lo fanno, non siamo d'accordo con questo noi siamo un'azienda assolutamente seria e quindi non vendiamo né trucchetti né cose vendiamo corsi e formazione molto professionali sull'online marketing e sul marketing quindi questa è una delle prime cose la seconda cosa è che questo video vuole essere solo una fonte di studio e di motivazione sono nel campo da vari anni ad oggi sono il punto di riferimento in Italia per quanto riguarda l'online marketing sono l'esclusivo e solo rappresentante dei corsi e dei materiali di Dan Kennedy in Italia sono stato selezionato personalmente da lui a un accordo di partnership con l'azienda NoBS inner circle quindi siamo rivenditori e coautori dei prodotti di Dan Kennedy in Italia e in Svizzera per quanto riguarda il marketing strategico, la psicologia del denaro chiamiamolo money mindset e l'infomarketing quindi i risultati che state vedendo non sono normali e non sono una promessa di guadagno quindi non è che se comprate i miei corsi allora iniziate a fare questi risultati qua questi sono i nostri e si riferiscono all'ultimo lancio allora vediamo un attimo di dare dei dati quindi il lancio c'è stato tra il 10 gennaio e il 25 gennaio adesso andiamo a vedere un attimo quelli che sono stati i numeri allora innanzitutto devo dire una cosa in modo preliminare innanzitutto questa è una piattaforma proprietaria quindi se vi chiedete ma questa dashboard è di Kajabi è di Teachable è di... non è di nessuna cosa questa è la nostra piattaforma che ci siamo fatti programmare questo è il back-end ovviamente della piattaforma i nostri studenti hanno accesso al front-end, all'esperienza Katanga è una piattaforma straordinaria con una user experience superiore a qualunque altra piattaforma al mondo abbiamo e siamo stati i primi a introdurre la gamification c'è il percorso dell'eroe ci sono i punti, c'è l'immersione, c'è il tracciamento delle ore una persona può tenere traccia dei progressi e tutta una serie di altre cose che però non sono parte di questo video quindi vedete questa dashboard strana perché è nostra ok allora possiamo notare come dal 10 gennaio al 25 gennaio di quest'anno sono stati generati 752.167,90 euro quindi 752.000 euro 753 vendite con una transazione media di 998.89 euro un'altra cosa che va detta è che questo è il cash collector quindi non sono le vendite totali adesso poi vi faccio vedere il perché la revenue si riferisce invece a in qualche modo al netto quindi 697.000 peraltro io sono pienamente convinto manchi qualche migliaio di euro ma insomma fa niente il senso lo capiamo lo stesso è già il guadagno meno la percentuale dei venditori e in realtà anche del costo del traffico che in questo momento non è presente perché la piattaforma prende le informazioni direttamente da Facebook in questo momento abbiamo un problemino con l'integrazione con Facebook ma fa niente ora quindi questo è il cash collector 752.167 euro hanno fatto ingresso in azienda non sono rate e non è un volume da fare quindi la differenza tra cash e revenue questi sono soldi già entrati e tramite bonifico e tramite pagamento con carte e tramite Paypal quindi questa è una cosa importante andiamo a vedere qualche cosa di interessante la prima cosa interessante è sicuramente la transazione media il corso è stato lanciato a 1200 euro abbiamo introdotto il sistema dei punti quindi le persone che avevano già comprato prodotti da noi servizi eccetera essenzialmente altri corsi potevano scontare i punti accumulati tramite gli acquisti precedenti che prima erano fatti su un'altra piattaforma che si chiama Kajabi quindi chi aveva speso 12.000 euro con noi ne abbiamo tanti di studenti ha potuto acquistare il corso gratis in quanto avevano 12.000 punti che valgono 1200 euro e tantissime persone hanno comprato il corso nuovo che si chiama online marketing per Mentecati 2.0 scontando i punti ciò nonostante possiamo vedere che la transazione media è essenzialmente 1000 euro è quanto di più vicino a 1200 euro ci possa essere questo perché perché io ho il famoso team telefonico d'assalto sono 10 venditori agguerriti che chiaramente hanno fatto vendite al telefono hanno fatto degli upsell, dei crosssell hanno venduto dei bundle per aumentare la transazione media una delle criticità ovviamente di questo lancio e ne avevamo parlato in azienda era mi scuso per la tosse ma è una cosa che ho da giorni non mi va via anzi mentre faccio questo video mi scuserete ma mangio un benagol allora possiamo vedere come la criticità era chiaramente che avendo molte persone che con noi hanno speso 3, 4, 5, 6 mila euro almeno per degli altri corsi potevamo avere sì tante vendite ma una transazione media magari di 5, 600 così non è stato perché siamo riusciti ad alzarla e quindi avere una transazione media praticamente dello stesso prezzo del corso 753 vendite adesso andiamo a vedere una cosa molto interessante innanzitutto vabbè su Katanga abbiamo tutta la fase diagnostica quante persone sono passate su Stripe quindi hanno pagato con carta di credito debito abbiamo il numero delle vendite la percentuale e i soldi che ci sono passati bonifici abbiamo anche non pervenuto perché abbiamo alcune situazioni di integrazione con il CRM su cui Katanga si appoggia non c'è ancora un'integrazione totale comunque si parla di 21.000 che non sono stati tracciati dalla piattaforma anche se poi noi sappiamo da dove sono passati un'altra cosa molto interessante sono l'average customer value e l'average customer cost quindi abbiamo avuto un average customer value di 1092 ovviamente 1092 è più di 998 perché alcuni studenti hanno in qualche modo comprato di più e quindi l'average customer value si è alzato e abbiamo anche il costo quindi possiamo vedere che ogni cliente durante questo lancio ci ha costato 134 e ha speso in media 1092 un'altra cosa è che chiaramente abbiamo avuto molti studenti che avevamo già e quindi loro non sono conteggiati nell'average customer value e nella transazione media che ci hanno dato quindi l'average customer value e l'average customer cost si riferisce agli studenti nuovi che abbiamo acquisito durante il lancio e che abbiamo convertito entro 15 giorni lo vorrei spiegare nel caso non capiste il perché della differenza di questi numeri molto minimale ma comunque giustamente va spiegato ecco andiamo alle cose interessanti possiamo notare che in 15 giorni abbiamo acquisito 400 nuovi clienti nuovi questi sono clienti o studenti come li chiamo io che non avevano mai comprato niente da noi e hanno deciso invece a questo lancio visto ovviamente la piattaforma proprietaria il fatto che online marketing permette catti 2.0 include 530 ore di lezione penso sia il corso più lungo della storia dell'umanità hanno deciso di affidarsi a noi di fidarsi e quindi hanno preso questo corso sono peraltro anche molto soddisfatti possiamo notare che le vendite organiche sono state 117 o meglio gli studenti nuovi e da venditori 292 quindi ancora una volta non avessi avuto il team telefonico d'assalto ecco che probabilmente avrei acquisito solo 117 clienti nuovi ora magari qualcuno avrebbe comunque comprato organicamente non si riesce poi mai a sapere questa cosa però direi che il dato parla piuttosto chiaro quindi questi sono alcuni dati che sicuramente sono interessanti il periodo di incubazione medio non tenetelo molto in considerazione anche perché non abbiamo impostato ancora bene tutto il sistema di tracciamenti sapete che il tracciare da dove viene cosa fa un cliente è praticamente impossibile vi prego di non discutere con me su questa cosa vi posso assicurare che è così stiamo implementando dei sistemi di tracciamento che non erano pronti per il lancio avendo noi usato due sole fonti di traffico avendo già abbastanza dati non è una cosa su cui noi ci siamo focalizzati questa cosa la stiamo sistemando ora perché andremo in evergreen quindi questi sono i dati ecco vi ho detto che il totale è stato 860.000 euro di cash più rate quindi questo è il cash entrato in azienda più le rate 860.000 euro non sono sicuro di i dati sono presi dal CRM che usiamo Salesforce che ha i dati aggiornati alcune cose non sono state inserite però per esempio vi faccio vedere che qua ci sono essenzialmente 100.000 euro di rate quindi le rate in ingresso nei mesi a venire saranno 100.000 euro quindi quantomeno siamo a 850 e passa 1.000 il dato finale in realtà 860 ripeto concedetemi il fatto che è stata una migrazione molto lunga un lancio molto intenso alcuni venditori non hanno segnato le ultime rate eccetera eccetera però potete vedere che nei mesi a venire soprattutto nel mese di febbraio abbiamo 88.414 per chi magari era un po' in difficoltà e gli è stato permesso di prendere online marketing per mentecati 2.0 valendosi delle rate infatti vedete che poi a marzo già praticamente non ce n'è più ad aprile 800 un'altra cosa è che prima di questo lancio molto prima avevo chiuso assolutamente tutti i miei corsi quindi le rate si riferiscono solo a questo lancio e non ha qualcosa di altro non fate conto a cosa leggete qua in rosso ripeto abbiamo tutti dei controlli interni per gli ordini sospetti per i documenti da controllare eccetera 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 quindi questo è sicuramente mi sento di dire il lancio più grande in Europa non ho contezza di altri lanci che siano andati meglio né in Italia né all'estero specialmente per quello che riguarda la nicchia infomarketing infoprodotti eccetera eccetera ho ottimi contatti e scambi con i vari formatori in Europa non ho news di lanci che siano andati oltre nel momento in cui questi lanci esistono ed è provato come lo sto provando io ovviamente contattatemi e chiarirò che questo non è il lancio più grande in Europa fino ad allora permettetemi l'immodestia lo è ora alcune cose che vi posso far vedere sicuramente sono alcuni giorni che abbiamo avuto molto profittevoli si parla specialmente del 25 dove abbiamo fatto oltre 107 mila dovrebbe ah 109 mila quindi 109 mila 159 virgola 70 posso dirvi che credo che da qui manchino qualche migliaio di euro per il semplice motivo che il nostro precedente record era 101 mila euro per il lancio del dado e tratto quando ho annunciato l'evento con Dan Kennedy a luglio se non mi sbaglio l'abbiamo eguagliato nelle prime 24 ore di questo lancio ovviamente devo considerare due giorni perché ci sono le ore della sera del primo fino ad arrivare essenzialmente dalle 9 di sera del 10 alle 9 di sera dell'11 quindi devo considerare due giorni le ore sono 24 ecco 108 mila e ah no ok 108 mila chiedo scusa quindi è giusto quindi questo era il record l'avamo già eguagliato nell'ultimo giorno del lancio abbiamo fatto ancora di più quindi avevamo già battuto il nostro precedente record il primo giorno di lancio l'ultimo giorno di lancio abbiamo eguagliato i soldi generati non solo ma sono stati generati tutti nello stesso giorno quindi in realtà potremmo fare un conto di 24 ore dalle 9 di sera del giorno prima alle 9 di sera del 25 non ho ancora la piattaforma che mi possa far vedere le ore potevamo farlo dal 10 all'11 perché il 9 non ho venduto niente quindi tutte le vendite del 10 sono occorse solo dalle 10 di sera in poi e cioè dopo il webinar di lancio fino all'11 chiaramente se io considero dal 24 al 25 siccome ho venduto anche tutta la mattina del 24 ecco che è una cifra assurda ovviamente 180.000 quindi in realtà in 24 ore potrebbero essere lievemente di più ma non so dirvi quanto solo il 24 per esempio il penultimo giorno di lancio eravamo mi sembra oltre i 70.000 esatto 71.213 possiamo notare come l'average customer value più o meno non cambi ci sono stati dei giorni dove l'abbiamo avuto più alto dei giorni dove l'abbiamo avuto più basso ma in generale è stato molto alto prendiamo qualche giorno non so dal 15 al 17 potrebbe esserci un weekend ovviamente abbiamo avuto delle oscillazioni possiamo notare vedete tra i giorni 114.000 qui siamo andati sopra i 1.050 euro quindi quindi molto bene possiamo notare qua tutti i vari dati che vi ho detto possiamo notare come il ROI è ampiamente sopra il 6-700% la media è quasi 1000 come vi ho fatto vedere prima in una settimana dal 10 al 17 abbiamo generato ecco ripeto ragazzi questo è il cash quindi poi c'erano anche delle rate quindi il totale delle vendite è più alto perché ripeto andamento vendite ma mi traccia delle rate questo è il cash che ha fatto ingresso in azienda possiamo notare 332.000 con un netto esclusa la commissione dei venditori di 308.421 se invece noi facciamo dal 18 al 25 ecco una cosa vi volevo far vedere quanti clienti nuovi abbiamo acquisito 152 nella prima settimana ovviamente i lanci hanno un effetto compound negli ultimi giorni e quindi siamo andati meglio ovviamente nella nell'ultima diciamo nella seconda settimana abbiamo fatto di più quindi 419.000 revenue 388.000 possiamo notare come abbiamo acquisito 249 quindi abbiamo acquisito essenzialmente mi sembra più o meno 100 studenti nuovi che mai avevano comprato qualcosa da noi e che hanno fatto ingresso in azienda che hanno deciso di prendere online marketing per Mentecati 2.0 essenzialmente questo quindi volevo un attimo dare una risposta perché è stato un lancio molto sentito si chiamava il papi sono io c'è stato un gran parlare ecco potete vedere che oggi oggi sono 0 bellissimo abbiamo chiuso quindi il lancio è chiuso adesso non abbiamo più prodotti da vendere apposta io non sono pro lanci a tempo io sono pro avere dei prodotti da vendere in evergreen e fare anche i lanci in questo preciso momento avremo delle cose da vendere ma non le vendiamo perché cominceremo l'evergreen dopo l'evento del 21 22 23 febbraio la realtà non esiste l'epicentro mondiale del marketing in celebrazione a Dan Kennedy dove i migliori studenti di Dan Kennedy stanno venendo dall'America per parlare di manipolazione mentale sarà un evento assurdo bellissimo un evento di altissimo profilo è un evento costoso non è un evento gratis non regaliamo i biglietti o quelle cose là quindi non ce lo chiedete doveva venire Dan Kennedy 99% Dan Kennedy non ci potrà essere perché stava per morire e quindi così eccoci tengo a farvi vedere che alcune vendite ovviamente i venditori avevano delle trattative aperte quindi hanno dato la possibilità a qualcuno di acquistare anche se eravamo oltre il tempo massimo giusto perché qualcuno doveva chiedere permesso alla moglie o trovare i soldi o quello che è quindi dal 26 al 28 è entrato ancora qualcosa che vi faccio vedere non molto parliamo di 19.000 quindi se vogliamo fare il conto dal 10 al 28 diciamo ieri il conto totale è di cash collector di 773.000 e 716.000 esclusa già la percentuale dei venditori e i vari in realtà i vari costi che non sono tutti riflessi per esempio appunto qui perché abbiamo ancora qualche problemino di integrazione possiamo vedere gli ordini chiusi 867 gli ordini non ho idea del perché non match con con le vendite ah sì ho capito il perché non sto qui a dirlo in questo video non fate riferimento ovviamente agli ordini ciò che conta a livello di di studio di questo video sono le vendite occorse e soprattutto il cash generato bene so già che questo video farà abbastanza rumore evitate ragazzi di scrivere quei commenti sgrammaticati idioti ah ma tu illudi la gente no questo è l'andamento della mia azienda in 15 giorni non ho detto che è facile non è automatico lavoriamo duramente ad oggi abbiamo un team di 15-20 persone fisso più collaboratori esterni e volanti ai quali ci affidiamo a seconda delle nostre esigenze ripeto è la dashboard di oggi del punto di riferimento italiano per l'online marketing non perché me la voglio tirare ma semplicemente perché è così e non è e non riflette un risultato di tipo medio questo è per l'appunto il record europeo non dovete guardare questo video in modo stupido e dire ah ma Big Luca sta dicendo che se io prendo online marketing per Mettecatti sarò anch'io capace di far stare no non lo sto dicendo non l'ho detto non lo sto neanche suggerendo anzi sto attivamente dicendo ufficialmente che il 99% non sarà così poi magari potete prenderlo a fare un milione il giorno dopo io però non credo ci vuole tempo ci vuole dedizione ci vuole tanto studio quindi questo è il video che dà una risposta un po' a quanto hai fatto durante il papi sono io abbiamo fatto 860.000 e passa con il risultato incredibile quello che va guardato ed è il motivo per cui questo video è iniziato in realtà facendovelo vedere il cash collected quindi questi sono i soldi generati e che sono entrati nelle casse perché il problema soprattutto delle piccole aziende la mia è una piccola azienda non siamo la Microsoft è che non riescono a vendere le cose abbastanza velocemente e a incassare i soldi abbastanza velocemente da tenere botta con lo sforzo pubblicitario e con i costi di gestione quindi non abbiamo fatto 860.000 euro ma ha incassato i 100 e il resto arriva in 12 mesi abbiamo incassato 773.000 quindi questo è un risultato sicuramente degno di nota eccetera eccetera quindi io spero che questo video vi sia piaciuto se non vi è piaciuto sono problemi vostri spero sia stato istruttivo motivante allettante o che cazzo ne so io sono Big Luca e ci sono rimasti gli ultimi posti per l'evento la realtà non esiste del 21 22 23 febbraio a Riccione se avete interesse se seguite il mondo della formazione se siete interessati ai materiali di Dan Kennedy se siete piccoli imprenditori o liberi professionisti e volete veramente delle strategie per aumentare massivamente i vostri profitti non con le supercazzole o con cose che dovrebbero funzionare ma con risultati che arrivano ogni giorno le mie testimonianze sono online da vedere vi consiglio di accaparrarvi gli ultimi biglietti per l'evento perché tra poco dovremo purtroppo annunciare il sold out è un evento di altissimo profilo con molti imprenditori liberi professionisti di alto profilo abbiamo sia i principianti che quelli avanzati e condivideremo con voi delle informazioni che non esistono perché è un evento di tre giorni sulla manipolazione mentale applicata ai liberi professionisti e ai piccoli imprenditori tendenzialmente non c'è mai stato anzi senza tendenzialmente quindi è parecchio interessante niente non ho più niente a dirvi arrivederci